Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. E apparso saldamente accanto alla madre, si sono sostenuti a vicenda, complici, indivisibili, uniti da un amore oltre ogni misura. Hanno vissuto giorni tremendi e ne continueranno a vivere altri, senza il loro gigante buono. Eppure, per tutti, arriva il momento di cedimento. Comprensibile, dunque, che, al termine dei funerali, complice lo strazio, il dolore, l'idea di doversi staccare per sempre dal papà così tanto amato, si è distrutto. Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Gabriele oggi ha 31 anni ed è stato adottato da Maurizio e Maria due decenni fa. Fu la stessa conduttrice a raccontare la complessità dell'adozione. Dicendo, quando ho incontrato per la prima volta Gabriele, lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino. Era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo, e se gli faccio schifo? Gabriele nel 2009, dopo essersi diplomato, ha deciso di non andare all'università seguendo le orme dei genitori. Attualmente lavora per la casa di produzione Fascino, occupandosi anche dei casting per alcuni dei più noti programma televisivi come Uomini e Donne, a cui ha lavorato anche per il montaggio delle puntate. Nel 2021 ha fondato una casa discografica e ha scritturato nello stesso anno Luigi Strangis e Alex, provenienti dal talent show Amici. La sua decisione di restare dietro le quinte è anche dovuta al fatto di voler evitare qualsiasi paragone con i suoi genitori. Vuole distinguersi per le capacità manageriali e organizzative. Grazie a tutti.